tenuti a porta a porta. Punto chiave, il sostegno al ceto medio, alle famiglie, a chi in questi anni ha fatto più fatica. Come le partite IVA, che sono state un po' dimenticate, gli 80 euro vanno estesi anche a loro, spiega il segretario PD, e un aiuto analogo va dato a chi ha figli. Mentre qualcuno in questa campagna elettorale vuole tagliare le tasse ai miliardari, noi vogliamo tagliare le tasse alle famiglie con figli. Noi vogliamo dare l'equivalente di almeno 80 euro per ogni figlio, per ogni mese, fino ai 18 anni. Siamo una squadra che in questi anni ha fatto qualcosa, rivendica Renzi, di fianco a Padoan e a Carla Cantone, sindacalista CGL, ci sono tutte le condizioni affinché il PD sia il primo partito nella prossima legislatura. E tra i risultati raggiunti che Renzi sottolinea c'è quello sul recupero dell'evasione fiscale che supera i 25 miliardi di euro. La dimostrazione che pagare meno pagare tutti è possibile, senza un fisco vessatorio, ma utilizzando nuove tecnologie e buonsenso, dice. Berlusconi e Grillo su questo tema non dicono nulla, attacca Renzi che scandisce, con gli estremisti non andremo mai. Il programma di chi vuole uscire dall'euro, di chi vuole cancellare il lavoro in nome dell'assistenzialismo, non può essere il nostro programma. Quanto alle parole di Prodi sul centro-sinistra, Renzi commenta, è chiaro che fanno piacere, ogni voto dato al partito di La Lema va a favorire Grillo o Salvini.